Siamo con Deglio Rossetto, mister dell'obiettivo risarcimento Breganze. Mister, che partita sarà questa finalina? È una partita che ci serve sempre in ottica campionato a rifinire quelle che sono le posizioni di gioco, soprattutto in fase difensiva dove ieri purtroppo non ci siamo espressi al massimo o perlomeno non ci siamo espressi come negli ultimi incontri di campionato. Vorremmo un attimo rifinire questo in vista di un importante incontro che contro Udine ci vedrà impegnati sabato prossimo. Infatti oramai diciamo che la finale anche per quest'anno è svanita, quella di Coppa Italia, ci si concentra esclusivamente sul campionato, su questi play-off. Sì, l'anno scorso l'abbiamo vista sfumare proprio all'ultimo perché siamo andati per il primo e il secondo. Quest'anno è sfumata prima, chissà che non cambi qualcosa nell'esito finale del campionato. Allora tuffiamoci nel campionato, siete là veramente a poco da Bolzano, Bolzano, comunque non è fondamentale arrivare primi, l'importante è arrivare nelle prime tre però. È fondamentale arrivare nelle prime tre e le ultime cinque partite ci vedono opporci a tre che sono in lotta per l'acquisizione di questo posto play-off. Sono Udine, Bologna e Trento. Non sarà facile, sarà uno scontro, ogni incontro sarà una finale in cui emergerà la squadra che in questo fine campionato avrà saputo gestire al meglio le energie psicofisiche. Quanto turnover oggi? Molto, lo vedrete dalle prime battute. Grazie, un grosso in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie a tutti.